Musica Tallini arrestato e posto domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso presunti rapporti con la Cosca Grande Aracli. Gli affari della Cosca favoriti dallo snellimento delle pratiche burocratiche della regione, dalle carte dell'inchiesta, patto sancito nella tavernetta del BOS. Il procuratore Gratteri, ospite del nostro Tg, parla della nomina del commissario della Sanità auspicando che sia un calabrese. I sindaci calabresi a Roma per chiedere la fine del commissariamento è una sanità normale. Il presidente del Consiglio Conte rassicura, dite alle vostre comunità che c'è la massima attenzione per tutti i cittadini. 506 contagi nelle ultime 24 ore e il Regino l'area che fa registrare più nuovi casi, effettuati 2.600 tamponi. 47 le persone ricoverate in terapia intensiva negli hub calabresi. 5 le vittime. Buonasera dalla redazione del Tg10. La cronaca ruba spazio al Covid, conquista l'apertura di questa edizione del telegiornale. Scattata alle prime luci dell'alba, l'operazione dei carabinieri dei comandi provinciali Catanzale e Crotone, denominata Farm Business, in cui è stato arrestato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. Convolte complessivamente 19 persone, accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale e tentata estorsione. L'operazione è coordinata dalla direzione distruttuale antimafia di Catanzaro. I particolari dell'operazione sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa, ma vediamo i nostri servizi. Nella tavernetta del BOSS nasce il progetto del business sui farmaci. All'incontro intercettato dai carabinieri partecipa un imprenditore considerato dalle forze dell'ordine l'anello di congiunzione tra la cosca, grande Aracri e livello politico regionale. È in quel momento che scatta l'indagine, come rivelato in conferenza stampa, la prima su piattaforme web in tempi di Covid. La costituzione di una società con una sede base in Catanzaro, finalizzata essenzialmente alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, farmaci, cosiddetti farmaci da banco, quindi quelli che non richiedono la prescrizione, prodotti parafarmaceutici. Questo attraverso la realizzazione di una fitta rete di punti di vendita, potremmo dire, in franchising, costituiti per l'appunto da farmacie e parafarmacie. 18 le misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri, 11 in carcere, 8 ai domiciliari nell'operazione Pharma Business, in cui è stato arrestato il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, all'epoca dei fatti assessori al personale della Regione Calabria, il cui ruolo sarebbe stato determinante. Grazie all'operato dell'onorevole Tallini è stato possibile da parte dell'organizzazione ottenere queste facilitazioni di contatto, di organizzazione, di incontri con funzionari della Regione per ottenere queste autorizzazioni. E in cambio ovviamente ci sono i voti, infatti l'imputazione di concorso esterno in associazione di incontri, di stampo mafioso e il voto di scambio. Affari, fiumi di denaro e la costituzione di società particolarmente complesse per la COSCA che diversifica le modalità d'azione. La locale di Indrangheta dei Grandaracri costituisce un ulteriore esempio di come la criminalità organizzata calabrese adotti sempre di più una strategia che utilizza solo residualmente metodi violenti e che anzi ha forte necessità di penetrare nel tessuto economico per poter riciclare i capitali sporchi. Un'indagine complessa che fanno sapere gli investigatori sia a valsa di intercettazioni telefoniche ambientali e che ha coinvolto non solo la Calabria ma anche l'Emilia e l'Umbria. Questa è la sede del consorzio al centro dell'inchiesta della DDA di Catanzaro. Il progetto Farmitalia nasce nel 2013 da un'idea del tutto legittima di un architetta calabrese residente a Roma. L'intenzione era quella di creare un centro servizi a Sellia Marina e altri progetti da realizzare accedendo a finanziamenti dell'Unione Europea tra cui anche la costituzione di un consorzio per lo smistamento di farmaci. Ma in quel progetto successivamente si inseriscono personaggi vicino ad ambienti criminali così la donna e il marito escono di scena dicendosi profondamente delusi dagli amici calabresi. Il business dei farmaci fa gola alle cosche, la famiglia Grande Aracri fiuta l'affare e così il consorzio Farmitalia e la società di capitali Farmaeco nascono con l'apporto finanziario della cosca che si assicura così coperture nel riciclaggio di capitali sporchi ma anche fette di mercato ad imprese funzionali agli interessi dell'organizzazione criminale, imprese che a loro volta ridistribuiscono ricchezze tra gli affiliati. Un sistema attraverso il quale si truffa il Servizio Sanitario Nazionale esportando illegalmente anche farmaci oncologici per rivendere all'estero con profitti enormi. Agli atti dell'inchiesta ci sono le conversazioni tra gli indagati. Gli antitumorali, gli ospedali li comprano a mille, dicono, nell'Inghilterra li vendono a 5.000, qui tu guadagni 4.000 euro l'uno. C'è poi l'acquisizione di farmacie in difficoltà economiche mediante fallimenti pilotati. Nella rete di farmacie e parafarmacie controllate dall'Andrangheta, 20 in Calabria, 2 in Puglia e 1 in Emilia Romagna, venivano quindi venduti medicinali del consorzio. Il consorzio a sedia Catanzaro, una realtà nata grazie al coinvolgimento di imprenditori, faccendieri e l'interessamento del politico Mimmo Tallini, che scrivono gli inquilenti nelle pagine dell'ordinanza, sarebbe stato determinante per l'abbio dell'iter. Si sarebbe infatti speso notevolmente per eliminare ogni ostacolo burocratico e amministrativo per la nascita della compagine imprenditoriale. In cambio, i Grandi Aracri gli avrebbero garantito sostegno alle regionali del 2014. Al vertice della cosca c'erano le donne. Si tratta della moglie e della figlia del boss Nicolino Grandi Aracri, ma anche della consorte di Ernesto Grandi Aracri. Tre donne capaci di rappresentare e restituire le figure apicali dell'organizzazione, provvedendo a dare disposizione direttiva agli associati nella pianificazione delle attività illecite, anche in ragione delle indicazioni provenienti dai congiunti detenuti. Nelle carte di questa inchiesta si legge che la cosca denominata Grande Aracri di Cutro costituisce un esempio paradigmatico di come la criminalità organizzata calabrese abbia saputo adeguarsi ai tempi, adottando una strategia che lascia su un piano residuale l'utilizzazione di metodi violenti e direttamente intimidatori, prediligendo lo sfruttamento di rapporti diretti e personali con soggetti detentori delle leve del potere, per abbarersi di scorciatoi assolutamente impraticabili per la gente onesta. Si tratta di rapporti instaurati, mediante l'incesiva opera di mediazione, in grado di avvicinare o coinvolgere il cosiddetto secondo livello, che tradotto significa politici, amministratori e funzionari pubblici. In questa inchiesta, il risultato delle operazioni investigative dimostrano come lo sfruttamento da parte dell'andrangheta e la sua profonda penetrazione nei glangi della società civile si è finalizzata non soltanto a finanziarsi coperture nel riciclaggio di capitali sporchi, ma anche influenzare decisioni amministrative, per assicurare fette di mercato ad imprese funzionali, ai loro stessi interessi. Imprese che a loro volta redistribuiscono ricchezze tra gli affiliati. Ciò che viene fuori, insomma, è che l'andrangheta, questo è l'allarme, possa assumere il controllo di interi comparti dell'economia. Ospite del nostro telegiornale, apriamo la pagina che riguarda la sanità e anche il Covid, il procuratore Nicola Gratteri, che ha parlato della questione commissariamento e ha ribadito la sua idea, quella che il commissario della sanità calabrese dovrebbe essere un calabrese. Un commissario alla sanità calabrese è quello che immagina e che pensa Nicola Gratteri. Il procuratore capo di Catanzaro lo ha ribadito anche oggi nel corso del nostro Tg. Io penso sempre al dolore di nostri amici che come possono scappano, purtroppo col Covid non è possibile muoversi tanto o volare, che hanno lasciato questa terra per trovare un lavoro, che magari non si sono piegati alle logiche della massona deviata, alle logiche mafiose, alle logiche clientelari e sono andati via, sono scappati da Roma in su e sono professionisti, gestiscono ospedali, reparti, sono professori universitari, sono negli organismi internazionali dove si decide il protocollo dei farmaci antitumorali, sono manager di multinazionali, sono persone che gestiscono migliaia e migliaia di operai e di dipendenti. E sono calabresi, sono figli di questa terra, sono figli di nessuno, sono figli di semi analfabeti che hanno avuto solo l'intelligenza, lavorando con la zappa o col martello, di mandare i figli a scuola, privandosi anche di comprarsi un paio di pantaloni. E allora questa gente che dal nulla, da zero, è riuscita ad affermarsi e che ha dimostrato concretamente di essere capace di gestire, perché non ci ricordiamo di questa gente, di questi prodotti leggendo. Sarebbe un bellissimo esempio per questi figli di questa terra, farli tornare e dire io sono andato via 30 anni fa, 40 anni fa, ho fatto questo, metto a disposizione la mia intelligenza, la mia professionalità, il mio amore per la Calabria. Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza dice basta alle soluzioni pasticciate con i commissari, in dieci anni risultati disastrosi e il punto più basso è stato raggiunto proprio con Cotticelli. È proprio il caso di sperimentare ancora una volta il solito modello di un uomo solo al comando, come di fatto c'è in questo decreto, persona dotata poi di massimi poteri, che nemmeno nel periodo del ventennio c'è stata qualcuno che avesse un potere così scombinato, cioè di nominarsi chi vuole sia come collaboratori stretti, sia come direttori generali delle ASL. C'è una frase particolare del decreto che dice che questo commissario si sceglie i membri dei direttori generali anche nell'elengo nazionale, cioè può mettere chi vuole. Indipendentemente da queste tecnicità che hanno sostanza c'è da dire una cosa, è proprio il caso di pensare che questo sia il modello valido visto che non ha dato grandi risultati, ci manderanno il solito finanziere, ci manderanno un altro carabinieri, ci manderanno non so chi, ma comunque non crediamo che questo sia il sistema giusto. Allora, proponiamo intanto una commissione di persone importanti e competenti che hanno la loro disponibilità a questo, fino a che si possa, questa stessa commissione, affiancare una gestione autonoma della regione dopo le elezioni. Questa tax force che noi suggeriamo deve dare garanzie non solo di competenza, ma soprattutto di terzietà, cioè non deve in nessun caso poter essere anche indirettamente condizionata o avere sospetti di apparteggiare per l'una o per l'altra o per una delle tre, quattro, cinque coalizioni che si dovessero confrontare all'elezione. E uno degli argomenti dell'incontro fra i sindaci calabresi e il premier Conte è stato proprio il commissariamento, ma non si è parlato soltanto di questo, i sindaci hanno chiesto una sanità libera e funzionale anche nel caso dell'emergenza Covid, ma non solo, una sanità che rappresenti una tutela per i cittadini. Hanno ricevuto delle rassicurazioni per il presente e per il futuro. Sentiamo. I sindaci calabresi con la fascia tricolore radunati in piazza Montecitorio per chiedere la fine del commissariamento e una sanità normale per la Calabria, capace di tutelare al meglio la cittadinanza anche nell'emergenza Covid. Uno striscione esposto in piazza recitava commissariati e indibidati dallo Stato. Una delegazione è entrata a Palazzo Chigi per essere ricevuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All'incontro ha partecipato il Ministro della Salute Roberto Speranza. Potete confermare alle vostre comunità che da parte del Governo c'è la massima attenzione verso tutti i cittadini calabresi, così il Premier Conte nel corso dell'incontro. Chiediamo condivisione e dialogo tra i territori e il Governo per la tutela del diritto alla salute. Il commissariamento deve essere provvisorio, non può durare per sempre. Chiediamo la condivisione sulla scelta del commissario, non ci interessano i nomi ma le competenze, ha detto il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Anche rispetto alla necessità di ripianare il debito ingente accumulato durante la lunga fase del commissariamento, il Governo avrebbe assunto degli impegni. Un'altra richiesta che abbiamo avanzato con forza, scrive Mario Chiuto, è stata quella di pervenire prima possibile a una ripartizione più equa alle risorse finanziarie destinate alle varie regioni e di rivedere i criteri sui quali si fonda l'attuale ripartizione che genera una discriminazione a tutto svantaggio della Calabria. Non ci sfugge che una gestione commissariale che deve essere straordinaria si trascina da dieci anni rischiando di essere ordinaria. Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata, ha detto il Premier Conte. Avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto per il Commissario della Sanità calabrese, ha aggiunto. Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione all'emergenza sanitaria in Calabria e cercheremo di lavorare tutti insieme, ha concluso il Premier, dialogando anche con voi sindaci perché si superi la fase emergenziale. Andiamo invece a vedere come è andata oggi sul fronte Covid in Calabria. Dopo le batoste dei giorni scorsi si riduce il numero dei positivi, ma restano comunque alti 506. Stavolta non viene specificato se si tratta di tamponi delle ultime 24 ore oppure analizzati fuori regione, quindi dobbiamo pensare che si tratti di tamponi delle ultime 24 ore con un boom di casi nel Regino in particolare, mentre le altre aree della Calabria rientrano nella normalità di questa fase. Ci sono purtroppo 5 decessi, ci sono 47 persone in terapia intensiva. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 327.394 soggetti più 2.611 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 12.512 più 506 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi. Cosenza 68, Catanzaro 77, Crotone 54, Vibo Valencia 47, Reggio Calabria 260, da altra regione al Stato Estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 395 nelle parti di malattie infettive e 47 nelle terapie intensive. Questo è il bollettino. Situazione dell'ospedale di Cosenza. Abbiamo visto nei giorni scorsi che nel pronto soccorso stazionavano quasi 50 pazienti in attesa di sistemazione, tutti con problemi respiratori. Poi c'è stata un'operazione di travaso con delle persone, dei soggetti stabilizzati che sono stati trasferiti in altre strutture e l'apertura di nuovi reparti. Però comunque c'è una pressione molto alta. Interviene sulla situazione degli ospedali della provincia di Cosenza anche alla UIL. Sentiamo. 24 pazienti in attesa al pronto soccorso dell'annunziata di Cosenza, nonostante il gran lavoro fatto nei giorni scorsi e trasferimenti in altri reparti e in altre strutture dei pazienti Covid, continua ad essere alta la pressione sulla porta d'accesso dell'ospedale. Problema che potrebbe acuirsi nei prossimi giorni se dovesse continuare il flusso costante dei degenti con problemi respiratori che caratterizza questa fase. Intanto un altro rossi, il terzo, risultato positivo, mentre sarebbe stato contagiato anche un infermiere. Anche a Cetraro c'è un altro operatore sanitario contagiato e un medico del 118. La UIL esprime preoccupazione per la situazione degli ospedali. Per Elio Bartoletti bisogna aprire le strutture dismesse e utilizzare al meglio gli SPOC. Non basteranno gli ospedali da campo. Per noi sono fondamentali due cose, potenziare la rete territoriale e quindi far partire degli ospedali del territorio. Dieci posti sul Cetraro sono chiaramente insufficienti, bisogna fare una programmazione pensando al peggio. Non dobbiamo essere ottimisti in questo momento. Le difficoltà le abbiamo viste in altre regioni e penso che per l'andamento che stiamo avendo anche noi la situazione non si prospetta per le cose migliori. Quindi già il fatto che metà del pronto soccorso è diventato un reparto Covid con oltre 20 pazienti che sono ricoverati perché non li possono mandare via. Quindi significa che da un momento all'altro ritorneremo alla situazione di qualche giorno fa quando avevamo oltre 50. i numeri ci dicono che fra qualche giorno avremmo ulteriormente altri 50 ricoverati. Gli ospedali da campo sono una soluzione? Gli ospedali da campo per noi non sono la soluzione. Allora per noi la soluzione è aprire gli ospedali territoriali. Ci sono strutture che sono prontissime, non pronte. Il con Elio Bartoletti e adesso andiamo a Siderno. Si parla di strutture utilizzate o sottoutilizzate. A Siderno c'è una struttura che potrebbe diventare una palazzina Covid. Ospedale di Siderno lo vedete alle mie spalle. Siamo fuori dalla recensione. Negli anni si è cercato di utilizzare nel modo migliore questa struttura ed infatti pur non diventando casa della salute come si era detto in un primo momento. Oggi ospita uffici amministrativi e anche servizi ambulatoriali. Adesso si pensa a questa struttura come possibile palazzina Covid. C'è un ultimo piano, il terzo piano che è stato adeguatamente ristrutturato e potrebbe rispondere a questa esigenza. Tutto questo mentre all'Ocri, ve ne abbiamo riferito ieri, di qui a qualche giorno sarà attivo un vero e proprio ospedale da campo che sarà una sorta di integrazione alla struttura in cemento già esistente. Insomma ci sono delle dinamiche decisamente interessanti che non sono comunque del tutto tranquillizzanti perché ancora di immaginare dentro la struttura che vedete in queste immagini la realizzazione di un reparto Covid sembra davvero difficile. Vedremo quali sviluppi ci saranno. Andiamo a Castrovillari, è stata allestita una tenda nell'area mercatale per l'effettuazione di tamponi rapidi. È in fase di allestimento e funzionerà da domani mattina la tenda allocata presso l'area mercatale vicino al polisportivo di Castrovillari concessa dalla protezione civile per l'effettuazione dei tamponi rapidi antigenici. Io sono venuto qui a controllare perché non funzionavano le luci, abbiamo sistemato tutto, abbiamo montato questa tenda e saranno fatti sabato come ha detto il sindaco di Castrovillari i tamponi, i primi tamponi qui all'area mercatale. I tamponi non verranno fatti all'interno della tenda ma all'esterno. Tale attività è stata possibile grazie alla disponibilità fornita gratuitamente da medici, infermieri e biologi e la collaborazione della Gaspolino, del SIULP e del comitato New Commercial Generation, i quali hanno contribuito all'acquisto dei tamponi che saranno somministrati Da sabato sarà possibile recarsi presso la struttura? No, si devono recare prima dal medico curante, fa la prenotazione e poi vengono qui presso la struttura. Il medico curante comunica al Cocchi di Castrovilla, il centro operativo comunale di protezione civile e poi verranno qui a fare i tamponi sempre sotto prenotazione, non possono venire così. In caso di positività, la Croce Rossa avvertirà immediatamente dell'esito il comune e il Dipartimento Territoriale di Prevenzione della Salute. Quest'ultimo dovrà sottoporre la persona risultata positiva al tampone molecolare. Questa situazione a Castrovillari, anche a Rende ha allestito un drive-in molto affollato. La curva dei contagi diventa sempre più ripide. L'ASP di Cosenza ha disposto nell'area mercatale di Rende uno screening su tutto il territorio a causa dell'aumento dei contagi. Si effettuano così i tamponi in modalità drive-in. Abbiamo lavorato su due file, aiutandoci con il tendone fornito alla protezione civile e con l'aiuto della Croce Rossa. Quindi due file di macchine, due squadre, due medici e due infermieri coordinati dal Dipartimento di Igiene che ci ha fatto pervenire l'elenco delle persone che necessitavano di sottoporsi al tampone. La fluenza di macchine in coda per sottoporsi al tampone aumenta di giorno in giorno. Noi stamattina erano all'incirca 50 i veicoli con a bordo famiglie pronte ad escludere o confermare la presenza del Covid. I casi di positivi aumentano, aumentano. Molti sono sintomatici, è vero, ma sono delle persone che comunque hanno bisogno di un consiglio medico e della nostra presenza sul territorio. Hanno bisogno di vederci e di sentirci vicino. Al momento dunque il drive-in sembra la soluzione più sicura per rintracciare la positività dei casi. Il consiglio che noi diamo sempre è quello di restare calmi, di restare tranquilli, di restare quanto più possibile sereni. Il coronavirus sicuramente è un virus che a volte determina delle comorbidità importanti, ma non è sempre così. Molto spesso l'infezione decorre in maniera sintomatica, quindi restiamo calmi, facciamo una sorveglianza attiva, quindi cominciamo ad usare il paracetamolo se c'è febbre e consultiamo le nostre figure di riferimento, il medico di medicina generale piuttosto che la centrale operativa USCA, per avere dei consigli che devono essere diversi a seconda dei sintomi e dei quadri clinici. Non c'è decisa dalla regione, però c'è qualcuno che non accetta questa situazione, una protesta di un papà a Cosenza. Un'alunna, un banco e il suo computer dove segue le lezioni online, non a casa, ma fuori la sua scuola. Se nei giorni scorsi molte mamme si sono battute ottenendo così la dad, stamattina davanti a una scuola di Cosenza è andata in scena la protesta pacifica di un papà che ritiene invece sia necessaria la didattica in presenza. In presenza significa che mille emozioni, mille situazioni dal punto di vista didattico e non andrebbero fatte in classe, davanti ai professori e insieme ai propri compagni di scuola. Non ha paura che la scuola sia veicolo di contagio? Non possiamo vivere in una campana di vetro, insomma c'è anche un discorso psicologico che va visto e che è importante per i ragazzi. Ora io voglio un po' guardare quei bimbi e quelle bimbe che non hanno la presenza di un papà e di una mamma sempre e quelle sono quelle che ne soffrono di più. Che cosa direbbe a tutti quei genitori che non vogliono assolutamente la scuola in presenza? Vorrei tanto rassicurare perché prima o poi la scuola dovrà iniziare, quindi il tempo perso, io penso che sia tempo perso per i ragazzi e solo per i ragazzi. Che cosa vorresti dire ai tuoi compagni? Vorrei dire che mi mancano a vederli dal vivo e che spero che la scuola ricominci più presto. Adesso vediamo come ha chiuso la borsa oggi. Seduta in calo per l'azionario europeo, frenato dalle restrizioni delle autorità per limitare i contagi, il sentiment resta appesantito dalla diffusione del virus, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, dove New York ha annunciato la chiusura delle scuole. Anche in Giappone è scattata la massima allerta dopo un nuovo record di casi giornalieri. Pfizer ha annunciato che il suo farmaco è efficace al 95%, spianando la strada per richiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione per l'utilizzo di emergenza negli USA, mentre i primi responsi dei test sul vaccino di AstraZeneca e dell'Università di Oxford evidenziano una forte risposta immunitaria negli anziani. Con riferimento all'Eurozona, Cristina Garba ha sottolineato i rischi per l'economia nel breve termine, confermando che a dicembre la BCE ricalibrerà i suoi strumenti per reagire alla crisi. Il presidente dell'Eurotower ha poi affermato che cancellare i debiti va contro i trattati UE. Ha esortato i leader europei a provare gli stimoli necessari, ipotizzando inoltre che il Recovery Fund diventi uno strumento permanente. Così il Fuzzi MIP di Milano chiude in flessione dello 0,4%, in ribasso anche il DAX di Francoforte a meno 0,9%, il Fuzzi 100 di Londra a meno 0,8%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,7%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,6%, contrastati oltreoceno il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 a meno 0,2% e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,184, mentre il dollaro-yen viaggia a 103,9. Tra le materie prime arretrano leggermente le quotazioni del greggio con il Brent a meno 0,7% a 44 dollari e il VTI sempre a meno 0,7% a 41,7 dollari al barile. Sull'obbligazionario il BTP Bund staziona 121 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Tornando a Piazza Affari chiudono in vetta al Fuzzi Mib Inuit a più 3,3% ed FCA a più 2,1% mentre scivola in coda Amplifon a meno 3,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Fase meteo interlocutoria con le piogge che hanno mollato anche sui settori olici, prima di un deciso peggioramento a carattere freddo previsto per il fine settimana. Una perturbazione nordatlantica seguita da aria fredda di origine artica irromperà sul Mediterraneo nella giornata di venerdì con effetti sulla nostra regione che si avvertiranno dalla giornata di sabato. Domani al mattino cielo poco nuvoloso. Nel corso della giornata assisteremo ad un aumento della nuvolosità sui versanti ionici con piogge in arrivo dal tardo pomeriggio sera, specie su Crotonese e Cosentino Ionico. Segni del forte peggioramento che su quest'ultime aree dovrebbe colpire già dalla notte a cavallo con la giornata di sabato. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti. Domani al mattino ventilazione debole dai quadranti meridionali con mari poco mossi ma con moto ondoso in aumento dalla serata. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci, vi auguro una buona serata.